Ciao, io sono Teresa Scordino e sono appassionata di cucina da sempre. Io mi ricordo che ero piccola, andavo alla scuola elementare, ancora non leggevo neanche bene, eppure il sabato allora si comprava il tv Sorrisi e Canzoni e c'erano le rigette e io cercavo sempre di riproporle. E poi ho iniziato a cucinare per la mia famiglia, per i miei amici e le mie rigette erano sempre graditissime. C'è stato poi l'incontro con i coperchi Magic Cooker, che hanno dato un tocco di innovazione alla mia cucina, ed è così che è iniziata la mia esperienza sui social. Infatti la mia passione è diventata un vero e proprio lavoro. Adesso quando devo proporre una ricetta, prima faccio delle ricerche, poi la provo, la riprovo, spesso contatto anche delle persone anziane della mia città, che possono anche trasmettermi la loro esperienza e la loro conoscenza, perché io amo tantissimo le ricette tradizionali e mi dedico molto proprio a quelle. Così, alla fine, nasce la mia ricetta, frutto della mia esperienza, del mio lavoro di ricerca e di tutte le mie prove. Adesso, oltre che cucinare per la mia famiglia, ovviamente cucino anche per tutti voi, e per tutti coloro che vorrete seguirmi sui miei social, perché voglio trasmettervi tutta la mia passione per la cucina e le mie ricette. Grazie.